Cura, dicevo prima, cassavo una realtà attività. L'abbiamo citata più di una volta, più di due, più di tre questa sera. La profonda crisi economica ci ha portato a tutti i livelli della società civile. Quindi, come diceva giustamente prima Antonio, è importante concentrare le risorse disponibili. Gli interventi che andiamo a indicare in cassavo una realtà attività sono interventi mirati. Qui vengono indicate nelle varie località, ma come avrete modo di notare, sono comunque anche interventi trasversali tra le località. Quindi magari indicate qui, ma che in realtà implicano e sono in parte realizzati anche in un'altra località. Allora, cassavo alta, partiamo dalla ciclo pedonale in via Roma. Hai l'immagine qui? Questo è solo un esempio per farvi capire a grandi linee quello che abbiamo in mente. Ossia una riqualificazione e un completamento della messa in sicurezza dell'ultimo ingresso del paese. Perché ormai è sotto gli occhi di tutti che il cassavo è in termini di pedonalità protetta in tutti i suoi ambiti. Sono pochissime le vie dove non c'è un marciapiede, dove uno non può camminare in sicurezza. Questo è uno degli interventi che consentirà di attraversare tutto quel lungo tratto in totale sicurezza. L'idea che abbiamo noi di realizzazione di questo tratto è un po' una fotocopia di quello che è Via Nazario Sagolo, per intenderci.